Sono in pochi là fuori quelli che credono ancora in voi, ma ci sono e vi sostengo. Voglio solo che pensiate a quelle persone. Dovete giocare per loro, con il cuore. Ogni uomo sa che nella vita, qualche volta spera, nonostante lotti, sarà così. Ma un uomo si distingue, perché fino all'ultimo istante non si dà mai per tutto. Questa è l'appoggio, rotta, rotta incredibili, proprio lui, incredibile cosa. Sì! 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 Grazie a tutti.